Una delle cose che non vuole il World Economic Forum è la cattiva pubblicità, perché in realtà esiste una cattiva pubblicità che circonda questa organizzazione mondiale su quello che fanno. Dite di no? Per quale motivo questa riunione, che dovrebbe essere senza scopo di lucro secondo quanto si legge su Wikipedia, avviene con l'ausilio di 5.000 poliziotti che circondano e proteggono la riunione per occuparsi della sicurezza dei partecipanti. 5.000 uomini sono una massa di persone. Sono pari al numero di spettatori dell'Arena di Verona, per fare un paragone. Il costo si aggira sui 45 milioni di franchi svizzeri o euro, come preferite. Ma lo scopo della riunione è invitare sul podio persone diverse, le quali in realtà lo scopo di queste loro conferenze è quello di cercare di cambiare le menti, il pensiero della massa, indirizzarlo dove vogliono loro. Sapete di certo meglio di me, che non seguo alcun social, che il World Economic Forum è in corso in questi giorni, da ieri, 16 gennaio al 20 gennaio 2023, dove nel loro programma continuano a parlare di villaggi globali, del cambio climatico e chi ha indagato e sta indagando da anni, sa che le variazioni sono indotte, basterebbe alzare gli occhi al cielo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché ho intitolato questo video «Il portale del male per l'inferno è in atto in Svizzera»? Perché mi ha attratto la parola «anima», che si trova sulla pagina «5 dimensioni della leadership per affrontare sfide complesse». Lo scrivono chiaramente quello che vogliono fare, sta a noi comprendere. Leggiamo insieme «Anima», scopo chiaro «I leader hanno bisogno di una direzione chiara in qualunque cosa scelgano di fare». Lo rileggo «In qualunque cosa scelgano di fare». Loro, non le masse. La forza motrice alla base di questo scopo può derivare da profonde convinzioni o valori, lo ripeto, da profonde convinzioni o valori a cui aspirano a essere all'altezza, lo ripeto, a cui aspirano a essere all'altezza, oppure può provenire da una visione ambiziosa che cercano di realizzare, lo rileggo. Può provenire da una visione ambiziosa che cercano di realizzare. Lo scopo racchiude i sogni della vita di un leader. Rileggiamolo. Lo scopo racchiude i sogni della vita di un leader e il raggiungimento di tale scopo li aiuta a definire la loro eredità. Attenzione! Definire la loro eredità. Capite che si passano il testimone da padre in figlio? Lasciando un impatto positivo sul mondo. Beh, per quanto riguarda il futuro dell'impatto positivo sul mondo, sarà dato da quello che riporterà la storia, perché in questa frase non c'è traccia di ben essere per le masse, ma solo credo e convinzioni di chi ambisce di essere leader di una folla che non ha mai scelto, né ha mai avuto la possibilità di scegliere. Molti hanno voluto seguire l'ipnotica imposizione da parte di esseri che nemmeno si sa chi siano. Io dico no.